ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovo video del gobo toscano allora oggi vorrei parlarvi del perché perché possiamo sognare perché il tifoso juventino oggi può sognare in grande allora mettiamo da parte accantoniamo per un attimo tutti i colpi di calcio mercato no ovvero partiamo da di gregorio cabal calulu turamma dallas luiz con sei sao nico gonzalez cop miners non lo so probabilmente mettiamoci anche dovesse arrivare sancho eccetera eccetera tutti scusatemi se me ne so scordato alcuno ma praticamente abbiamo ricomprato un'intera squadra dobbiamo intanto si gioire per la campagna acquisti ma metterla un attimo da parte perché non è solo per quello che il tifoso juventino può sognare in grande quest'anno ma semplicemente perché abbiamo finalmente un allenatore abbiamo finalmente un gruppo coeso abbiamo finalmente un modo di giocare a calcio ovvero quando abbiamo visto le prime due partite è vero contro il como in casa è vero contro il verona fuori casa ma abbiamo visto sicuramente dei miglioramenti netti rispetto alla stagione scorsa di massimiliano allegri quello che colpisce di più nella differenza tra la juventus targata allegri la juventus per ora targata tiago motta è la come si dice lo sviluppo del giocatore singolarmente e nel contesto di squadra o meglio i giocatori vengono messi nelle proprie posizioni oppure in posizioni in cui vengono ad esprimere nel meglio modo possibile il loro potenziale cosa che l'anno scorso non veniva assolutamente fatta cioè venivano messi i giocatori ad esempio locatelli a fare un ruolo che non era il suo chiesa il ruolo che non era il suo vlaovice veniva messo a fare un determinato tipo di attaccante che non era consono alle sue qualità e capacità quindi questo è un cambiamento importantissimo e ricordiamoci che storicamente parlando la juventus non ha mai fatto un gran gioco a livello di coralità no abbiamo vissuto tante volte di individualità o tantissime altre volte perché eravamo talmente superiori nettamente scusate non mi veniva la parola all'avversario e quindi andavamo a vincere scudetti e quant'altro però ripeto la juventus è una squadra che storicamente parlando non è mai stata abituata a questo bel gioco no abbiamo visto con sarri quello che è successo ma c'è una netta differenza con sarri non fu fatto un mercato idoneo a maurizio sarri maurizio poteva anche dare un imprinting ma uno non era ben visto dai senatori cosa che quest'anno non ci sono non c'è senatori due sarri era veniva da un trascorso di anti juventinità pesante quindi anche lì dal punto di vista della dirigenza non era ben visto non gli è stato fatto un mercato all'altezza delle sue aspettative è vero aveva cristiano ronaldo ma ricordiamoci sempre che la juventus di cristiano ronaldo era la juventus di cristiano ronaldo non era la juventus con cristiano ronaldo era cristiano ronaldo e poi c'era una juventus buttata lì ecco perché quest'anno vi do tante tantissime motivazioni per crederci per credere a quello che può essere possibile fino a qualche mese fa reputavamo impossibile e ora voi mi direte come in tanti mi hanno commentato sotto i video ah ma siete alla seconda giornata il campionato è lungo e avete giocato contro le scarze tutto ci sta anche se non reputo il verona in casa una squadra facile da affrontare ma tutto ci sta può essere stata una giornata storta del verona o una giornata di fortuna della juventus come l'anno scorso ne abbiamo avute almeno 10 di giornate con la fortuna e con il vento a favore ma io mi baso anche su quello che una squadra con la preparazione a livello di tempistie come la juventus e quindi come l'inter e quindi come il milan cioè come le squadre che faranno anche campionati che competizioni europee e nel campionato tenteranno di arrivare tra le prime posizioni vedo comunque una netta differenza vedo che tutti hanno faticato nessuna ha fatto punteggio pieno infatti la juventus è sola a 6 punti il napoli che perde col verona 3 a 0 e poi si rifà col bologna l'inter che pareggia col genoa per carità non è facile andare a giocare a genova e e portare a casa i tre punti ma era comunque possiamo dire a quel punto un genoa senza i top senza gudmundson e retegui da un giorno all'altro li ha persi tutti e due gilardino poi un milan che pareggia con il torino era sotto di 2 a 0 fino a poco a poco minuti dalla fine e poi va a perdere col parma tra l'altro il parma secondo me sarà la rivelazione di quest'anno quindi per una serie di tanti 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 motivi vi dico che secondo me la juventus e i tifosi della juventus possono sognare sì dobbiamo essere liberi di sognare in grande perché più che un sogno ad oggi è la constatazione di un lavoro fatto bene durante il periodo estivo ripeto dovremo ancora vedere come la juventus si rialzerà in caso di sconfitta come uscirà dalla partita in caso di gol subito perché ad oggi abbiamo fatto due vittorie in due partite con sei gol fatti e zero gol subiti quindi non abbiamo un banco di prova no da su cui poter dare delle valutazioni ma credo che se il buongiorno si vede dal mattino allora sarà una giornata meravigliosa detto questo vorrei anche ricordare a livello di cambiamento della juventus tutto quello che è stato fatto non solo a livello di mercato ma non per quanto riguarda gli acquisti e le cessioni quanto è stato fatto dal punto di vista del ritocco degli ingaggi cioè dello sgravo che c'è stato fatto sugli stipendi dei giocatori escono giocatori che prendevano all'ordo dai 10 milioni in su ne entrano altri che ne prendono 5 6 capite bene che c'è una differenza sostanziale tra i due valori e in più andiamo a prendere dei giocatori con un'età media bassissima quindi juventus che va avanti a livello di progettazione progettualità chiamatela come volete sia dal punto di vista dei costi il taglio dei costi l'età che si va a ridurre sensibilmente un progetto tecnico importante che fa vedere come si gioca al calcio ripeto ci sono tante lacune ieri abbiamo fatto l'analisi se non l'avete vista col buon audino andatevelo a rivedere ieri sera la live di ieri sera era l'analisi tattica di verona juventus 0 a 3 ecco la settimana prima abbiamo fatta quella di juventus como 3 a 0 e lunedì prossimo faremo quella di juventus roma io spero di vedere un risultato rotondo anche lì ma mi aspetto domenica di subire il primo gol perché ci sta ci sta se dovessimo subire il primo gol sarà sicuramente un modo per vedere come la juventus si riorganizzerà in campo al gol subito bisogna anche vedere quando arriva il gol ovvio se ti fanno gol quando stai già 3 a 0 4 a 0 è anche diverso ma se dovesse per caso andare in vantaggio la juve essere recuperata subito sull'una 1 andare addirittura in vantaggio la roma sicuramente avremo un banco di prova molto importante diciamo la prossima è la prima vera partita per me no per me le vere partite sono quelle anche col verona fuori casa semmai non con il come in casa ma col verona fuori casa si per tanti la vera partita la vera prima partita della juventus è quella contro la roma ok quindi per tutte queste persone sarà sicuramente un giorno importante per poter poi dare i giudizi sulla juventus che sta nascendo io a parte fare gli auguri a tiago motta buon compleanno mister perché oggi è il compleanno di tiago motta e come regalo ha avuto cop miners quindi miglior regalo non poteva esserci e va a vedere la juventus abbia fatto apposta per regalarlo per il compleanno cop miners a tiago motta chi lo sa chi lo sa ma detto questo grazie tiago motta grazie giuntoli che sta lavorando impeccabilmente giuntoli ad oggi non può stare sotto al voto 10 non può perché è giusto dire sono troppi 60 milioni per cop miners 55 che lì ne sono ma dobbiamo anche vedere come sono arrivati questi soldi non le abbiamo fondamentalmente spesi se guardiamo il taglio degli ingaggi abbiamo risparmiato più di 40 milioni tra i giocatori vecchi e quelli nuovi che vuol dire 40 milioni investiti per cop miners cop miners lo paghi 15 cioè se l'avessi dovuti tirar fuori di tasca avrei dato ragione e anche a me stesso che ho sempre detto che erano troppi però analizzando la situazione uno dice cavoli ma se alla fine ti costa all'attivo solo 15 milioni perché fondamentalmente gli altri l'hai ricavati non dal tesoretto non dalle cessioni ma dal dal taglio degli stipendi che è una cosa fondamentale per il sostentamento della squadra quindi ragazzi fatemi sapere anche voi se secondo quello che è il vostro ragionamento il modo di pensare la juventus e noi tifosi bianconeri possiamo sognare in grande fatemelo sapere nei commenti lasciate un like iscrivetevi al canale condividete il video e attivate la campanella delle notifiche per non perdere i prossimi aggiornamenti stasera 22 e 40 più o meno 30 40 ora vediamo il live mi raccomando vi voglio carichi a molla perché stasera aspettiamo già Don Sancio ok aspettiamo insieme già Don Sancio vediamo se arriverà o meno saremo lì a commentare fino alla fine Forza Juve fino alla fine Gobbo Toscano perché il Gobbo Toscano siete tutti voi e ci vediamo con un prossimo video o una prossima live che sarà alle 22 e 30 barra 40 ciao belli Alla fine